Il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta esprime sdegno personale del gruppo consigliare del Partito Democratico per il mancato avvio nelle scuole del servizio di esistenza in favore dei minori diversamente abili, così come anche denunciato dai genitori degli studenti. Amministrare una città, dice Cirignotta, significa programmare per tempo i servizi essenziali in favore della comunità ed in modo particolare quelli a sostegno degli studenti diversamente abili. Ritengo inaccettabili le motivazioni adotte dall'assessore Alaramo, la quale addebita al taglio dei trasferimenti statali e regionali la mancanza delle risorse finanziarie necessarie a garantire il regolare avvio dei servizi in questione e la invito, dice Cirignotta, fin da ora a fare meno passarelle televisive e ad occuparsi di più dei bisogni delle fasce più diseggiante della nostra città. Questa vicenda rappresenta la riprova che l'attuale governo locale risulta inadeguato ad amministrare una realtà difficile e complessa come Gela. Il capo dell'amministrazione, troppo impegnato in trattative di basso profilo politico per mettere su una maggioranza labberciata ed improvvisata che gli possa garantire la sopravvivenza, conclude Cirignotta, ha oramai perso di vista la vera mission di un amministratore locale che è quella di operare quotidianamente per il bene della comunità che rappresenta. L'assessore comunale Ligia Bella rimarca che rincresce sempre a prendere dei disagi che si trovano a vivere le fasce deboli e nel caso di specie gli studenti disabili delle scuole primarie necessita una presa di responsabilità quando si è chiamati in prima persona a dover fronteggiare queste problematiche e invece riprolevole da condannare quando questo diventa il protesto per alcuni esponenti di lungo corso della politica locale per praticare il loro passatempo preferito, il tiro con le freccette. Entrando nel dettaglio della vicenda dei servizi alla persona resi nelle scuole di pertinenza comunale ha detto l'assessore Abela, occorre precisare che in una determina dirigenziale firmata lo scorso anno tutti i dirigenti scolastici assumevano la responsabilità di nominare e sostenere economicamente con i fondi che transitavano dal comune le spese necessarie al pagamento del personale al fine di garantire assistenza personale e alla comunicazione. Abela sottolinea come il personale in forza nelle scuole risulti essere in parte formato per adempiere questo genere di servizio ma che difficilmente viene impiegato visto che si tratta specialmente di personale di sesso maschile spesso incompatibile con l'utenza di riferimento. Non basta una degrazione unilaterale a lasciare che le responsabilità assunte vengano meno. Chiaro è però che il problema sussiste e che quindi va risolto comunque. Se da un lato, dice Abela, abbiamo chiesto il rimpinguamento in bilancio delle somme destinate al servizio dimostrando con i fatti che l'attenzione sulla tematica è massima dall'altra stiamo valutando velocemente misure alternative che possano dare incontro alle esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e delle scuole che li ospitano. Come settore poi abbiamo chiesto degli aumenti delle somme in bilancio con fondi interni che ci consentirebbero a mano approvata di sopperire alle esigenze emerse con l'ottimizzazione del servizio per il prossimo anno.